Per noi chiaramente dobbiamo cercare di limitarle al più possibile, perché poi dopo magari nelle partite un pochettino più equilibrate possiamo pagarle di più. Abbiamo questi momenti soprattutto in difesa dove facciamo fare qualche canesso troppo facilmente agli avversari, però poi nel complesso eravamo riusciti a portare la partita sui binari dell'aggressività a un certo punto e c'era una banca abbastanza premiata, non so se più 20, però eravamo arrivati più o meno a 20. Ed è chiaro che come allenatore avrei gradito che l'intensità fosse rimasta la stessa per tutto il resto della partita, poi invece abbiamo avuto un attimo di flessione, loro chiaramente giustamente con la loro gioventù non hanno nulla da perdere, quindi vengono qui e fanno la loro partita senza nessuna remora, come giustamente deve essere così. Però ripeto, anche oggi parliamo di una partita dove abbiamo subito 63 punti, veniamo da un'altra dove ne abbiamo subito 50, quindi sotto quell'aspetto lì, oltretutto purtroppo la cosa che mi dispiace è che certe volte prendiamo dei canessi veramente infantili, cioè tipo che ne so, siamo gli ultimi della difesa, andiamo a raddoppiare, lasciamo un uomo libero sotto al canesso, come è successo a un certo punto con Tassinari che si è trovato da solo, facciamo questi errori, per assoluto guarda, tra il primo e il secondo tempo ho detto ai ragazzi state difendendo troppo forte, non serve, non serve oggi, perché spesso e volentieri li costringevamo a rifugiarsi negli angoletti del campo e abbiamo sprecato un po' troppi falli, lì probabilmente l'aggressività doveva essere incanalata in maniera diversa, però meglio avere una squadra che ha questi picchi di aggressività piuttosto che una squadra sempre un pochettino timorosa e inattesa. Molto dipende dalle scelte che fanno gli altri, oggi sotto questo aspetto qui siamo stati molto bravi a leggere la loro difesa sui pick and roll e questa cosa ha permesso oggi a Rosignoli di andare in doppia cifra, magari ci sono state altre partite dove Federico Granato, Giampaoli o altri hanno approfittato magari di altre difese un pochettino più contenitive per poter tirare più liberi dal terimetro. La capacità deve essere questa un po' della squadra, capire quello che abbiamo davanti e regolarsi di conseguenza su come attaccare le varie scelte che la squadra avversaria fa. Sicuramente Davide è in grande crescita, sia a livello offensivo, anche se poi a livello difensivo lo è sempre stato, perché comunque produce grandi aiuti, produce solidità in difesa, mi fa piacere che adesso è anche abbastanza coinvolto in attacco, ci abbiamo messo un po' a capire come coinvolgerlo, però adesso piano piano qualche cosa sta avvenendo fuori. Non è che è un problema di imparare a difendere, è un problema che quando riusciamo ad alzare il ritmo della partita, e chiaramente poi diventa anche difficile per gli avversari giocare a quel ritmo, in certi momenti andiamo anche oltre e quindi magari andiamo a fare cose che in quel momento non servono e subiamo dei canestri talvolta anche fortunosi, anche oggi abbiamo preso due o tre canestri con dei rimpalli dentro l'area, però effettivamente su delle scelte del pick and roll verso la fine, per generosità, siamo andati a fare delle cose che non erano richieste o previste e abbiamo preso due canessi facili da sotto dal lungo che rollava dentro. Chiaro che bisognerebbe gestire un pochettino più questi picchi di aggressività, se no voglio dire gli esterni hanno fatto un gran lavoro sugli loro esterni, li hanno costretti ad andare sempre negli angoli del campo a palleggiare, sono partiti bene i raddoppi, ogni volta riusciti a sporcare qualche tiro e poi all'improvviso prendiamo dei canestri facili che in parte sono tipici di questo modo di difendere, perché tutte le squadre che difendono molto aggressive prima o poi un canestro banale lo prendono, tipo ne so, ci ha fatto un canesso sul backdoor in Pierini a un certo punto alla parte della tribuna dove c'è il pubblico, molto facile, però quello veniva da un tentativo di anticipo che in quel momento magari non serviva, serviva fargli giocare, fargli passare la palla perché poi in realtà quando arrivavano a 5-6 secondi alla fine hanno messo un tiro tassinari ma non ci hanno mai messo in difficoltà. Però ripeto, diciamo che l'aggressività che si vede in campo è una base importante per poter costruire le cose che poi servono per difendere bene, se non ci fosse quella sinceramente mi preoccuperei. L'affrontiamo in maniera molto serena, consapevoli che comunque andiamo intanto a giocare su un campo tostissimo perché storicamente Palestrina è uno dei campi del Lazio più caldi in assoluto, dove ci sarà sicuramente e giustamente un clima caldissimo perché loro sono a sette vittorie consecutive. Noi secondo me abbiamo già affrontato qualche partita, togliendo un po' la prima giornata con Senigallia dove comunque se vedete per esempio la prima partita di campionato di Palestrina in casa contro di loro vedete lo stesso una squadra in difficoltà, quella forse è veramente l'unico rammarico che mi porto dentro perché mi dispiace perché potevamo anche essere noi a zero sconfitte in questo momento, però oramai è acqua passata. Penso che la partita di Cassino pure fu una partita che in quel momento era una partita non facile da giocare, ma in generale noi fino adesso fuori casa abbiamo sempre fatto grandi partite, forse giochiamo meglio fuori casa che qui a Rieti, le partite migliori a livello qualitativo sia in attacco che in difesa finora le abbiamo fatte sempre fuori, mi auguro che così sia anche domenica, chiaramente siamo consapevoli che come hai detto te andiamo ad affrontare una squadra che ha un roster completamente diverso da quelli affrontati fino adesso, però voglio dire abbiamo anche giocatori abituati a fare certi tipi di partite per cui mi auguro che di andarmi a giocare la partita per potersi portare a casa due punti e soprattutto per riprenderli in classifica. Con il centro di Beneduzzi? Non lo so purtroppo perché stasera va a fare una lastra, speriamo che non ci sia nulla di rotto, però lo sappiamo con precisione dopo la lastra, per il momento è una lussazione abbastanza grave perché io ho visto il dito quando è uscito, era piegato in tre, la mano destra, l'anulare della mano destra.